buongiorno e ben ritrovati oggi siamo a trani nella vibrante zona dello stadio precisamente in via cidea dove vi presentiamo un gioiello immobiliare uno splendido attico in un edificio recentemente ristrutturato con una superficie netta di circa 125 metri quadri questo attico vi accoglie con un elegante corridoio che divide la zona giorno dalla zona notte nella zona living un ampio salone vi invita a rilassarvi mentre una cucina abitabile vi attende con un camino perfetto per momenti di tranquillità e convivialità ma la vera sorpresa è il terrazzo di circa 160 metri quadri una vera oasi di tranquillità con una vista panoramica mozzafiato dove la natura primeggia un piccolo angolo di paradiso aggiuntivo è rappresentato da una deliziosa dependance con bagno lavanderia ideale per ospiti o come spazio multifunzionale nella zona notte giungiamo in una spaziosa camera con bagno privato e una camera padronale entrambe accedono al terrazzo offre rende una connessione diretta con la bellezza circostante completa questa offerta un comodo box auto di circa 20 metri quadri garantendo praticità e sicurezza per il tuo veicolo non lasciatevi scappare l'occasione di vivere in un ambiente esclusivo e godere di una vista mozzafiato ogni giorno contattaci oggi per prenotare una visita e rendere questo attico il vostro nuovo angolo di paradiso ciao alla prossima